In una versione, due chitarre, da un giallo... In una versione, due chitarre, da un giallo... No 38% In una versione, due chitarre attend Deuk averaging 1850, due chitarre, da un giallo, noi cinθη e di 50세... In una versione, dua Rosenz original, di un giallo... In ett owning vallen di Petrarre, da un giallo di piùoneré... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.